Dunque, Arles è riuscito a rintrecciarli. Come avrà fatto? Non sarà facile batterli. Che cosa vuoi da me? Chi è là? Il volere di Arles può essere affrontato e vinto da uno spirito libero. Aaaaaah! 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 L'astuzia non ti fa difetto, ma stavolta ti ha tratto in inganno Se preferisci così Spastati da lì Vai Come Può andarsi, però voglio comunque tentare Vattene, prima che sia costretta ad ucciderti Davvero, non ne sarei così sicura se fossi in te È molto forte Mi dà una volgente! Con me i tuoi trucchi non funzionano! Cedi il passo, Castoria, te lo ordino! Mi dà una volgente! Come hai potuto asservirti ad Arles? È di una fun... No, non è possibile! Egasus, dimmi che cosa hai in mente! Cerca di risollevarti un po' D'accordo? Il tuo addestramento è concluso Ma purtroppo non è finita Si aspetta la parte più dura D'accordo? Ma purtroppo non è finita